Buon pomeriggio, buon martedì, buon ultimo giorno del mese di marzo, un marzo del tutto particolare. Vediamo di portarvi via poco tempo per aggiornarvi su quello che stiamo facendo come parlamentari, come governatori, come sindaci della Lega in tutta Italia per dare una mano a molti di voi che ci stanno mandando le richieste, le procoste o le grida di aiuto più diverse. Quindi saremo molto veloci e molto concreti. A proposito di concretezza, esigenza numero uno, il diritto alla vita, la tutela della salute. Ancora non ci siamo. Domani mattina incontrerò insieme agli amici del centrodestra il Presidente Conte e gli ribadirò per l'ennesima volta che da tutta Italia arrivano dagli ospedali, dalle farmacie, dalle case di riposo, dai comuni, dalle caserme, dalla polizia, dalle case degli italiani richieste di materiale di protezione sanitaria. E sapete qual è la cosa assurda? Anche laddove si provvede da soli a farli, la burocrazia li blocca. Esempio concreto, lo porto al collo. Io oggi per uscire di casa, per venire qui, ho indossato questa mascherina, non so se si vede da lontano, questo è un brevetto di un'azienda lombarda, dirò alle porte di Milano, materiale testato e certificato dal Politecnico di Milano, è un'azienda che ha riconvertito la sua produzione, producono 900 mila pezzi al giorno, Regione Lombardia ne ha ammontati, ammassati 3 milioni di pezzi in magazzino. Perché? Perché manca la certificazione dello Stato, perché non c'è ancora l'ok definitivo dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma stiamo scherzando. Io domani porterò in omaggio al Presidente Conte una di queste mascherine, ripeto, con materiale certificato dal Politecnico di Milano, non da Matteo Salvini che passeggia sul balcone, 3 milioni di pezzi che oggi potrebbero essere distribuiti ai farmacisti, ai cittadini, ai lavoratori delle case di riposo, ai pompieri, fermi in magazzino. Perché manca l'ok di Roma. Ecco, io chiedo al Ministro della Sanità, al Presidente del Consiglio, di far veloce. Perché se l'ok a queste mascherine arriverà fra una settimana, fra due settimane o fra un mese, rischia di essere tardi. E questo pezzo di stoffa rischia di non aver salvato la vita ad altri esseri umani. Quindi il diritto alla vita e alla salute. Soprattutto nelle case di riposo. Stiamo intervenendo in tutta Italia. Mi hanno segnalato un caso in Calabria, Chiaravalle, in provincia di Catanzaro, su cui ci stiamo muovendo. 48 anziani, tutti positivi nella casa di riposo domus area, che devono essere assistiti e trasferiti. Sette sono già venuti a mancare. Quindi che nessuno aspetti la strage finale. Ma ci sono problemi con alcune case di riposo in Campania, in Lombardia, in Emilia Romagna. Quindi stiamo segnalando a chi di dovere che bisogna fare e fare in fretta. Ringrazio i sindaci. Ringrazio molti sindaci con cui sto comunicando tutti i giorni. Da ultimo ho sentito il sindaco di Treviso, Mario Conte, lo saluto poco fa. Alcuni sindaci che stanno affrontando l'emergenza con i loro mezzi. Il sindaco di Ferrara, ad esempio, lo saluto, Alan Fabri, ha acquistato 150.000 mascherine con i fondi comunali, le ha distribuite ai cittadini e altre 20.000 le ha distribuite a medici, infermieri, poliziotti e dipendenti delle case di riposo. Altre iniziative. Il sindaco di Anzio ha stanziato 900.000 euro a sostegno delle famiglie, ad esempio bloccando la tassa sull'Atari, la tassa sui rifiuti, perché è la vita reale. Qualcuno in qualche ministero evidentemente non ha capito che il problema è la vita reale oggi, è la bolletta della luce domani, è l'affitto, è il mutuo, è la cassa integrazione. Dopo di me parleranno Alberto e Claudio proprio sulle proposte della Lega per risolvere i problemi reali. Cassa integrazione, stipendio, partite IVA, agenti di commercio, precari, disoccupati, lavoratori stagionali. È questo il pacchetto di proposte molto concrete che la Lega porterà domani sul tavolo del Presidente del Consiglio. Qualche altro sindaco, a Palazzolo, a Creide, in provincia di Siracusa, il sindaco spegne le luci inutili per risparmiare 700 euro al giorno da distribuire le famiglie. A Verona il Comune ha promosso un paniere da 20 euro per portare la spesa a domicilio grazie alla collaborazione delle botteghe e dei commercianti. A proposito dei soldi ai comuni, chiederò al Presidente Conte a nome di tantissimi sindaci che i pochi soldi, già pochi, ora arrivati, possano essere spesi in autonomia dai comuni. Perché i 400 milioni di euro famosi anticipati ai comuni servono solo per i buoni pasto. Molti sindaci mi chiamano, e io lo dirò al Presidente del Consiglio, dicendo che i miei cittadini hanno problemi adesso non con i buoni pasto, perché la spesa sono riusciti a farla, con la bolletta della luce, con l'affitto, col mutuo, con la rata per l'elettrodomestico, con la retta dell'asilo. Il sindaco di Treviso, ad esempio, vuole restituire ai cittadini, opera meritoria, le rette degli asili di marzo e di aprile, perché i genitori non ne stanno fruendo, e vuole usare quei soldi per restituire ai cittadini 150 o 200 euro. Quindi ci vuole elasticità, ci vuole buonsenso, ci vuole autonomia in un periodo di emergenza. A proposito di buonsenso, domani consegnerò un foglio al Presidente del Consiglio. Ormai molti di voi lo sanno, vediamo se riusciamo a farlo vedere, proprio questo foglio. Mentre in Italia si stanno partorendo decreti, decreti del Presidente del Consiglio, decreti del Governo, circolari ministeriali, autocertificazioni, burocrazie per la cassa integrazione, per la sospensione dei mutui che non sono sospesi, in Svizzera hanno partorito un foglio. Un foglio, questo lo porterò domani, brevi Manu, consegnato al Presidente del Consiglio, questo foglietto, questo foglietto, anzi mi alzo, aspetta mi alzo e vengo, te lo faccio vedere questo foglietto, tanto sto a distanza, questo foglietto, così si vede meglio, questo foglietto, questo, ho evidenziato alcuni passaggi, questo è il foglietto che il Governo svizzero ha messo in mano agli imprenditori svizzeri, dietro non c'è niente, non è neanche fronte retro, e si chiama contratto di credito fino a 500 mila euro per ottenere subito cash sul conto corrente senza casini, mediazioni, sindacati, il 10% del fatturato dell'anno scorso, solo se si è avuto un notevole pregiudizio economico, quindi non stanno lì a certificare il 21%, il 33%, hai perso fatturato, hai perso soldi, hai perso clienti rispetto all'anno scorso, ti faccio un prestito della durata di 60 mesi, 60 mesi, non qualche settimana come in Italia, ti faccio un prestito della durata di 60 mesi per le necessità di liquidità fino a 500 mila euro, compili autocertifichi, firmi e hai 500 mila euro, con un foglio, ripeto, non chiediamo miracoli, ma se lo fanno altri paesi al mondo proponiamo che lo faccia anche l'Italia. Ultima riflessione, poi lascio la parola rapidamente ad Alberto che sta coordinando tutte le richieste che arrivano dalle imprese, dagli agricoltori, dagli autotrasportatori, dagli agenti di commercio, dai commercialisti, e poi Claudio che sta facendo un lavoro enorme sulla cassa integrazione per garantire, a volte ascoltato dal governo, a volte meno ascoltato dal governo, che i soldi sui conti correnti degli italiani arrivino fra qualche giorno e non fra qualche mese, perché se i soldi arrivassero fra qualche mese, altro che problemi sociali. Ultima riflessione, dicevo, l'edilizia, l'edilizia è uno dei settori fondamentali su cui costruire la ripartenza, perché oggi come Lega abbiamo istituito un tavolo permanente di ascolto con le imprese e il mondo del lavoro e della produzione, l'artigianato, il commercio, gli ordini professionali, l'agricoltura, l'edilizia, l'industria, le piccole imprese per ascoltare ogni giorno e preparare la ripartenza. Direi la resurrezione, visto che si avvicina Pasqua, ma poi qualcuno polemizzerebbe adesso che in un momento in cui si contano, ahimè, ormai 12.000 morti e decine di migliaia di persone in difficoltà, ci sia qualcuno che ha perso un giorno di tempo per polemizzare su una preghiera, su un eterno riposo in memoria dei defunti e in omaggio ai loro cari, perché in televisione non si prega, con tante sciocchezze che si vedono in televisione, dieci secondi dedicati a un eterno riposo in memoria di chi non c'è più, mi sembra che siano l'ultimo dei temi su cui polemizzare. Comunque, chiudo la parentesi e buona Pasqua in anticipo a tutti. l'edilizia, sarà fondamentale al momento della ripartenza, che sia ad aprile, che sia maggio, che sia giugno, aprire tutti i cantieri possibili, quindi noi chiediamo al Governo di lasciare che siano i Comuni e le Regioni ad appaltare tutti i lavori che hanno già progettato, mia proposta, con una grande operazione di pace edilizia. Come proponiamo la pace fiscale, quindi via tutte le cartelle di Equitalia, gli accertamenti, gli avvisi bonari, la sospensione alle centrali rischi per cui poi non puoi accedere al credito. Ecco, pace fiscale per quest'anno e pace edilizia. Ecco, tutti quelli che hanno un contenzioso con la sovrintendenza, col Comune, con la Regione e c'hai la finestra fuori posto, e c'hai la grondaia fuori posto, e c'hai il balconcino fuori posto, via, si riparte, si azzera il pregresso, si paga al Comune quello che si deve pagare, il Comune in cassa, tu stai tranquillo e finisci di fare quello che stavi facendo. Ho parlato anche troppo perché poi ci saranno le domande dei giornalisti collegati ovviamente a distanza. Alberto, visto che sui giornali qualcuno legge di grandi impianti filosofici e la polemica sui poteri di Orban e cosa fanno in Cina, noi stiamo lavorando su temi molto più, il mutuo, l'affitto, ad esempio sugli affitti io ringrazio Regione Lombardia, che qualcuno a sinistra immeritatamente critica perché ha messo a bilancio più di 60 milioni di euro per aiutare chi non ce la fa a pagare l'affitto, sia in casa privata che in casa popolare. Ecco, gli emendamenti della Lega sono molto concreti, molto reali, poca filosofia perché non è il momento, molta vita reale, molti problemi di oggi. Sì, grazie, buonasera, gli emendamenti della Lega sono concreti anche perché sono gli emendamenti degli italiani, cioè sono gli emendamenti che derivano da quell'ascolto che sia come Dipartimento di Economia che come intero gruppo parlamentare e nostri rappresentanti sui territori. Va avanti, io ringrazio tutti i colleghi per questo lavoro e per l'intelligenza con la quale mi hanno saputo segnalare le priorità. Io in questo momento sto coordinando il lavoro nelle sedi parlamentari. Diciamo così, ci sarebbe utile che il Governo ci desse un metodo di lavoro perché la cabina di regia fra Governo e opposizione in questo momento non è ancora veramente partita. Io vorrei garantire, rinnovare la nostra disponibilità a portare queste proposte concrete. Un esempio ve lo darà dopo l'On. Durigon, Claudio, sul tema della Cassa Integrazione Guaragni. Una cosa che andrebbe condivisa in questo momento, che è un momento storico per l'Europa ed è un momento storico per il Paese, io mi sono permesso di dirlo in uno degli incontri col Governo, è l'atteggiamento appunto nei riguardi dell'Europa perché come credo ormai sia chiaro, il nostro Paese non sta ricevendo un segnale chiaro sull'entità delle manovre che il Governo vuole fare perché è in corso un negoziato in Europa. Ora il negoziato è in corso suppongo anche per gli altri Paesi, siamo tutti sullo stesso piano in teoria in Europa, però Francia e Germania hanno fatto annunci incisivi, noi ancora non li abbiamo fatti e questo crea una considerevole apprezzione presso gli imprenditori, presso le famiglie, una prensione che andrebbe risolta, anche perché ormai non esistono, non ci sono più, diciamo così, grossi margini di dubbio. La linea che la Lega ha sempre proposto, cioè quella che se il progetto europeo ha un senso, le sue istituzioni devono agire nel momento del bisogno e in particolare la Banca Centrale Europea, adesso è sostenuta anche da intellettuali autorevoli o comunque sempre ritenuti autorevoli nelle trasmissioni del mainstream, come per esempio Carlo Cottarelli, il quale oggi ci fa sapere che anche secondo lui, ove mai vi fosse un problema che l'Italia non ha nel collocamento dei titoli del debito pubblico necessari per finanziare l'importante manovra di cui il Paese ha bisogno, dovrebbe intervenire la Banca Centrale Europea. Quindi bisognerebbe accantonare definitivamente, ma sappiamo che non è accantonata definitivamente l'idea del MES, sappiamo che è un'idea molto divisiva per la maggioranza e sappiamo che i ritardi derivano da questo tipo di dibattito interno alla maggioranza, certo non da noi che ci siamo limitati a fare delle proposte concrete. Per dimostrarvelo vi rubo qualche minuto, non faccio tutta la lista della spesa, noi siamo consapevoli dell'importanza del fattore tempo nell'economia, siamo arrivati a fine mese e ci sono dei problemi importanti, noi abbiamo posto sul tavolo del governo il problema della proroga, per esempio delle ricevute bancarie per evitare insoluti nelle aziende, abbiamo posto il problema della proroga della scadenza degli assegni posti a garanzia, possono sembrare banalità ma sono delle realtà importantissime per tanti piccoli e medi imprenditori, abbiamo posto altresì il tema della sospensione delle segnalazioni della centrale dei rischi di cui parlava prima Matteo, perché? Perché altrimenti un temporaneo problema di liquidità tale per cui tu hai un ritardo in un pagamento diventa un problema lunghissimo e difficile da risolvere di accesso al credito perché poi sei catalogato fra i cattivi e le banche quando l'economia potrà ripartire non ti faranno credito. Questi sono tutti problemi urgenti che vanno assolutamente affrontati e c'è poi naturalmente il tema del sostegno dei redditi di chi se non fattura non mangia e quindi il sostegno dei redditi delle partite IVA e in generale degli autonomi. Noi abbiamo proposto di estendere l'indennità proposta dal governo alle professioni ordinistiche che erano state accantonate, non si sa bene in base a quale logica, ai rappresentanti di commercio, quindi queste proposte sono sul tavolo, speriamo che vengano accolte. Poi c'è tutto il problema dello Stato che finora nell'impostazione dell'ultima legge di bilancio aveva sostanzialmente utilizzato le imprese come un bancomat, ma quella stagione deve chiudere, quindi bisogna che il rimborso dei crediti fiscali e anche il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione siano assolutamente agevolati e accelerati, quindi abbiamo raccolto proposte che venivano dalle categorie, l'innalzamento a un milione di euro del limite per le compensazioni fiscali, la sospensione dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del decreto fiscale che erano degli articoli che mettevano un carico burocratico addosso alle imprese e fra l'altro che ritardavano la compensazione dei crediti fiscali con il pagamento delle imposte, la sospensione degli avvisi bonari oltre a quella delle cartelle, quindi abbiamo fatto una serie di proposte che sono proposte di emergenza, ma poi naturalmente bisognerà anche pensare al tema del credito, quindi fra le altre proposte c'è anche quella di intervenire con un fondo di garanzia pubblica che presti una garanzia pubblica, garanzia dello Stato con il veicolo della CDP per assicurare delle linee di credito alle aziende, una proposta più snella e più diciamo corposa di quella che il governo ci ha proposto nell'articolo 57 del decreto, sappiamo, ma lo sappiamo indirettamente, non da un tavolo né formale né informale, da voci di corridoio che a via 20 settembre se ne sta parlando, siamo contenti che le nostre proposte non ci interessa mettere bandierine, questo è sufficientemente ovvio e poi ci sono delle proposte che sono proposte assolutamente di mero buonsenso per la gestione dell'emergenza, per esempio incentivare le aziende che, come Matteo ha fatto vedere con un esempio pratico, si stanno riconvertendo alla produzione di dispositivi di protezione, quindi mascherine, camici eccetera eccetera, è chiaro che sono aziende che meritano di essere sostenute in questo loro sforzo. Ecco, noi potrei andare avanti per tanto tempo ma non voglio sottrarre tempo a Claudio, però voglio fare veramente nel mio piccolo di parlamentare che in questo momento combatte sulla trincea degli amendamenti un appello al governo per chi ci dia chiarezza sul metodo da seguire, noi non abbiamo fatto un singolo gesto parlamentare dall'inizio della crisi ad oggi che possa essere interpretato come istruzionistico, abbiamo solo chiesto che venissero a riferire il Premier, parlo per il Senato, o il Ministro dell'Economia su che tipo di patti stavano facendo in Europa e riteniamo che sia stato importante farlo, perché non dimentichiamoci che molto spesso sulla onda dell'emergenza sono state prese delle decisioni che poi hanno vincolato i governi e le generazioni future, vorremmo che queste decisioni venissero prese con lucidità, non è un problema Italia contro Germania, personalmente questa è una mia posizione, mi permetto, non so se è una posizione politica, ma trovo abbastanza fuori luogo un certo atteggiamento antigermanico, comprare pagine di un giornale tedesco per rinfacciare tedeschi che noi siamo stati generosi con loro è un'operazione abbastanza effimera, ci sono delle regole, se noi non abbiamo saputo negoziare quelle regole in modo efficiente in passato perché abbiamo preso delle decisioni sotto l'onda emotiva di una crisi o sotto una serie di conflitti politici interni nostri, ecco impariamo dal nostro passato e facciamo noi la nostra parte, cioè stiamo attenti a quali regole vengono decise in questo momento a Bruxelles per il rimborso del debito che necessariamente tutti dovranno fare come stati e che ci accompagnerà per ripagarlo per i prossimi anni, cosa che in un'economia che funziona non è un problema, questo ormai lo dicono tutti, lo ha detto perfino Mario Draghi, quindi abbiamo la certificazione al più alto livello, ma può diventare un problema se ci si mette in delle trappole giuridiche dalle quali la Lega, come sapete, ha sempre cercato di mettere in guardia i cittadini e anche il governo. Lo diceva Alberto, ormai c'è anche la certificazione che in un momento di emergenza la parola debito non è una bestemmia, se uno Stato aiuta i cittadini, le famiglie e le imprese a vivere o a sopravvivere, fare debito non è un diritto ma è un dovere, c'è modo di fare debito, puoi fare debito infilando l'Italia nel tunnel del MES da cui non usciremo più se non con una patrimoniale, con altri tagli alla sanità o con l'inalzamento dell'età pensionabile o c'è un modo di fare debito italiano per gli italiani, lo diceva anche il professor Cottarelli oggi, un'emissione straordinaria, questa è la proposta della Lega fin da subito che riporteremo domani ufficialmente, concretamente, numeri alla mano sui tavoli del governo, un'emissione straordinaria di buoni del tesoro destinati agli italiani, agli imprenditori italiani, alle famiglie italiane che hanno via dei risparmi, agli investitori italiani con delle fiscalità vantaggiose, con degli incentivi, con degli aiuti economici, con dei crediti per chi sottoscriverà questi titoli di guerra, perché potremmo chiamarli tranquillamente titoli di guerra, io preferisco indebitarmi con gli italiani mettendo a garanzia la Banca Centrale Europea che ha già detto che sottoscriverà centinaia di miliardi di titoli di Stati italiani piuttosto che mettere a garanzia i risparmi, il lavoro, le pensioni o gli ospedali dei nostri figli. Claudio, Cassa Integrazione, molti di coloro che ci stanno guardando, è da giorni che ci chiedono, ma il governo ci paga? Quando ci paga? Quanto ci paga? Grazie a te, grazie al gruppo di lavoro della Lega, il governo ha capito che dovevamo uscire dalla giungla, non so se l'abbia capito fino in fondo. No, fino in fondo no, però qualcosa hanno fatto. Allora, spieghiamo com'è andata questa cosa. Noi dieci giorni fa nell'incontro a Palazzo Chigi abbiamo fatto presente che insomma non bastava un decreto che diceva che si emanava appunto una norma che elargiva questa famosa Cassa Integrazione, ma serviva ad essere più veloci, più esostivi nel dare questi soldi. Addirittura, racconto un piccolo aneddoto, sempre dieci giorni fa il Ministro Gualtieri diceva che il giorno dopo avrebbe pagato questa Cassa Integrazione, non capendo che quei soldi non andavano in tasca ai lavoratori, ma bensì andavano a tutta quella burocrazia che c'era intorno. E noi lì abbiamo già fatto presente che secondo noi era necessario fare una cabina di regia e in qualche modo coinvolgere le banche per far sì che ci fosse un prestito alle aziende da poter elargire negli stipendi che dovevano dare ai lavoratori. Innanzitutto, Matteo, ci tengo a pensare che tante aziende italiane, e qui le voglio anche ringraziare, hanno, nonostante questo periodo di crisi, anticipato le somme del pagamento, perché ci tengono ai lavoratori in modo particolare. Quindi significa che un nostro tessuto c'è e ringrazio queste aziende. E anzi, ringrazio anche quelle che purtroppo non ci sono riusciti, ma lo volevano fare, ma per ovvi motivi non ci sono riusciti. Tornando a questo accordo di ieri, l'accordo prevede praticamente che abbiamo trovato una formula, hanno trovato una formula dove le aziende ABB, tutto quanto le banche, fanno dare un'apertura di un conto corrente ai lavoratori e grazie alle garanzie che i lavoratori stessi mettono in questo ambito possono prendere un prestito di 1.400 euro. Oggi ho sentito trasmissioni che dicevano 1.400 euro mese. No, 1.400 euro in tutto. E la cosa più brutta che c'è... Quindi, scusa, 1.400 euro in tutto vuol dire che se l'arco coperto sono 9 settimane, vuol dire circa 600 euro al mese. 6, 6, 12 e 2, 14. Come sui numeri, deve essere estremamente precisi, se no poi qualcuno ci accusa. Ah, danno i numeri. 1.400 euro è il presto, rinnovabile, ma dopo le 9 settimane. Allora, che succede? Noi speriamo naturalmente che l'Inps, in questo caso, riesca a 9 settimane a elargire queste somme, ma però voglio farvi presente questo. Tutte le norme che sono presenti nel Decreto Legge e Cura Italia, praticamente sono rivolte a beneficiari che devono lavorare l'Inps per circa 13.800.000 lavoratori, quando parliamo di congetto parentale, legge 104, tutte e cassa integrazione. Quindi questo è vero il periodo drammatico che l'Inps trova a vivere, insomma, per elargire questi soldi. Infatti rimanevo basito quando, nel momento in cui, Conte, anche l'altro giorno, entro il 15 aprile andremo a pagare tutti. Quindi, allora, positività di questo accordo. Le banche in qualche modo anticipano, però in maniera, secondo me, non equa in questo momento storico e che ad oggi è aprendo un conto corrente. Posso dirti ancora di più, Matteo, che anche oggi abbiamo avuto un colloquio con Abbi, dove speriamo, in una sua interpretazione di questo accordo, dove in qualche modo non dà più respiro, da respiro a non aprire questi conti correnti e quindi andare sul conto corrente precedente, però a questo momento siamo ancora così. Quindi che cosa succede? Il dipendente apre il conto corrente, riversano 1.400 euro con sue garanzie, senza nulla dello Stato e in questo momento può così andare avanti con questo accordo. Faccio un esempio su tutti, faccio un esempio della nostra regione virtuosa. Il Friuli Venezia Giulia, che ha creato un sistema simile, ha messo come garanzia il fondo di garanzia regionale. Quindi non ha intaccato nessuna problematica, anche perché le banche giustamente non vanno contro il rischio, anzi hanno messo per esteso in questa formula che in caso in cui il lavoratore che apre il conto corrente non ha la possibilità, perché ha vecchi prestiti, quindi di poter dare in famosa garanzia, questo loro possono anche non darli. Quindi ecco, questa nostra norma invece era significativa perché dava la possibilità a tutti di avere con la garanzia dello Stato, ecco quando c'è lo Stato, la garanzia dello Stato e in modo che tutti potevano avere queste somme. Vediamo nelle prossime ore la famosa diciamo, lettera interpretativa che ci fa Labbi, siamo fiduciosi, però ecco, a metà ci hanno ascoltato. L'importante è non inventarsi nuova burocrazia a carico delle imprese e dei cittadini, modello Regione Friuli Venezia Giulia, la garanzia è della regione, quindi non si disturmano né le imprese né i cittadini. Una delle proposte che le associazioni di categoria con Fartigianato, con Fcommercio ed è assolutamente sposata dalla Lega per il prossimo decreto sarà avere un fondo di garanzia pubblica integrale al 100% per le imprese per avere dei prestiti a tasso zero sulla base del fatturato dell'anno precedente, cioè io l'anno passato ho fatturato 100.000 euro, questa è la mia garanzia garantita dal pubblico, prestito a interesse zero da restituire dal 1 gennaio 2022, perché non occorre uno scienziato per capire che la crisi non verrà superata in qualche mese, ma semmai verrà superata in qualche anno. Considera che nel Friuli Venezia Giulia, in questo caso il Presidente Fedriga, ha messo 4.800 euro, non 1.400. Allora, adesso se c'è qualche domanda virtuale dei giornalisti che sono dall'altra parte dello schermo, come tanti di voi che ci state seguendo in questo pomeriggio, vediamo se riusciamo a rispondere. Per Matteo Salvini, Elisa Saltarelli di Prima Pagina. Poco più di un mese fa lei ha esposto in un'altra conferenza stampa le sue proposte da presentare al Premier Conte e parlò in quell'occasione di una free tax zone, una soluzione che avrebbe potuto dare un sostanziale aiuto ad uno dei settori più colpiti, quello del turismo. Vorrei sapere se questa sua proposta è stata accolta e ha avuto un seguito. La proposta continua a essere valida, non solo legata al comparto del turismo, arriva da tanti sindaci di città d'arte, pensiamo a come potranno ripartire Venezia, Firenze, Roma, i templi della Sicilia o i musei o le città d'arte. Ad oggi non c'è una risposta, molto onestamente, il che non vuol dire che ci sia stato detto no o sì. È una proposta che stiamo strutturando così come zone economiche speciali, ad esempio per i comuni della zona rossa, i famosi 11 comuni dell'Odigiano che primi di tutti sono stati sigillati e più di tutti hanno sofferto, tutti i sindaci di tutti i colori politici di quel territorio hanno chiesto una zona economica speciale, una zona esentasse almeno per quest'anno e il costo per lo Stato è irrisorio, se non ricordo male sarebbero una quarantina di milioni di euro su un bilancio dello Stato di 800 miliardi. Anche su questo la proposta l'abbiamo fatta come zona economica speciale, come tax free zone. Per Milano, io la vedo per Milano, che è la locomotiva perché se riparte Milano riparte tutta Italia, ieri Confcommercio ha ipotizzato 5 miliardi solo di danno commerciale per la città di Milano, quindi è chiaro che noi stiamo preparando per chi è attualmente al Governo delle proposte per aiutare il Paese e speriamo di essere ascoltati. Matteo Valerio di Regnus24, la Lega sta proponendo un condono tombale sugli abusi edilizi oppure ci sarebbero delle limitazioni? No, se uno ha costruito la casa sul fiume o sul vulcano evidentemente non si tratta di sanar nulla. Però faccio l'esempio del Comune di Roma e invito l'amico di Regnus24 ad approfondirlo con gli architetti, geometri e gli urbanisti. Giacciono nei cassetti del Comune di Roma quasi 200 mila domande di condono edilizio, alcune delle quali risalenti a 30 anni fa e più. Se vogliamo ripartire non è il caso di smaltire tutto questo arretrato, ovviamente non sono i palazzi costruiti abusivamente in mezzo ai gretti dei fiumi, ma spesso e volentieri sono i due metri quadri, è la veranda, è il controsoffitto, è la finestra, è il camino, è la grondaia. Io penso che un Paese che esce da un'emergenza... L'Italia del dopoguerra stava lì a guardare le grondaie e i caminetti? Oppure sana tutto e fa ripartire tutto? Io penso che un'enorme opera di pace fiscale, pace edilizia sia fondamentale per ripartire. Siamo in guerra? Ecco, in tempi di guerra le autorizzazioni preventive, i cavilli della sovrintendenza e la Corte dei Conti e il danno erariale e l'ANAC. Buon Dio, occorrerà ripartire nel nome della massima libertà di impresa, di azione, di costruzione, altrimenti cosa riparte? Gentili del messaggero, domani al vertice con il Premier Conte, ci sono delle cose che come Lega chiederete come prioritarie, come più importanti? Quali sono? Mi ha detto innanzitutto il diritto alla vita e alla salute. È stato nominato ormai da settimane un commissario e non è possibile che tutti noi passiamo una parte della nostra giornata come nostro dovere fare a rispondere a sindaci, medici, farmacisti. Ringrazio i farmacisti, ringrazio i medici di famiglia, ringrazio i volontari che portano a casa degli anziani e dei disabili cibo e farmaci. Mancano le mascherine, mancano le tute, mancano i camici, mancano i saturitmetri, manca l'ossigeno, mancano le bombole d'ossigeno. Ora questo è onere dello Stato, garantire la salute pubblica e quindi il presupposto sarà la tutela della vita e della salute, nelle case e nelle case di riposo. Poi economicamente parlando, ripeto, al di là delle 6.000 complicazioni di cui avete sentito parlare, il modello svizzero, un foglio, una firma, un conto corrente, fiducia fra Stato e cittadini, è quello secondo me su cui impostare tutto. Alessandro Usai di Stasera Italia. Lei è favorevole ad un piano di uscite quotidiane limitate e in sicurezza, soprattutto per i tanti bambini che sono a casa? Non faccio il medico, leggo di tanti studi, ho sentito, ho seguito con interesse il ministro israeliano che ha diviso in fasce di età a rischio e molta parte della comunità scientifica è su questo fronte. È chiaro che non ci sarà una riapertura, quando riapriremo, perché il virus non sarà stato sconfitto e annientato, ma sarà stato di molto rallentato, è chiaro che non si riaprirà tutto e subito, non è che si riaprono gli stadi, le università, le scuole, le discoteche, i bar, i ristoranti, le fabbriche, bisogna andare per grado e per grado di rischio. Quindi è chiaro che un'uscita prioritaria per chi ha un'età più giovane rispetto a chi è over 70, mi sembra ipotizzabile, e anche come filiere una riapertura di settori, di industria e di impresa che metta meno a rischio e a minor necessità di spostamento, quindi aziende del territorio, personale del territorio, prodotti del territorio. Sì, io prima di pensare ai bimbi, ho due figli ovviamente a cui si chiedono i sacrifici che si chiedono a tutti, penserei all'emergenza disabili e ci tengo a tornarci su perché se ne parla troppo poco e anche negli emendamenti che abbiamo presentato al governo si parla di disabilità perché sono 5 milioni di famiglie e alcune disabilità sono quasi incompatibili con la reclusione fra quattro mura. Penso all'autismo, penso alla malattia psichica, che hanno bisogno di ritualità, hanno bisogno di entrate, di uscite, di permessi, quindi mi sento di poter chiedere che per alcune disabilità la possibilità di uscita tutelata e accompagnata sia immediata. Eccoci, fosse ancora la Lega al governo lo chiederei al Ministro per le disabilità. L'attuale governo, lo dico come nota di cronaca senza polemica, ha cancellato il Ministero per la disabilità, quindi non posso dire lo dico al Ministro per le disabilità perché non c'è, è stato cancellato. Però domani al Presidente del Consiglio porteremo le grida di aiuto che ci arrivano da tantissime famiglie con un disabile in casa e in molti casi la convivenza è ormai impossibile e si rischia tanto. Ci sono due o tre domande su Orban, cerco un po' di sintetizzarle. Campo dell'Ansa, secondo lei i pieni poteri assunti da Orban sono analoghi a quelli assunti da Conte? E se no, sempre secondo lei, in che cosa si differenziano? Ma onestamente io ritengo che ogni popolo, ogni Parlamento e ogni governo debba decidere in base a quello che ritiene di decidere. C'è stato un voto del Parlamento ungherese? Sì. È un Parlamento democraticamente eletto? Sì. Il Premier ungherese è stato democraticamente eletto? Sì. Punto. A che titolo io o altri debbono andare a eccepire su quello che fanno in Francia, in Ungheria, in Spagna o in Finlandia? Quindi è surreale la polemica italiana sui cosiddetti pieni poteri a Orban che poi andando a leggere mi sono anche preso il tempo per andare a leggere non le notizie di alcuni giornali italiani, ma i contenuti di quelli che sono poteri per affrontare l'emergenza sanitaria che necessitano di altri passaggi parlamentari. Cioè non può Orban si alza la mattina e decreta l'emergenza vita? No. Occorre un passaggio parlamentare. In Italia è stata decretata l'emergenza? Sì. Qualcuno l'ha decretata in televisione il sabato a mezzanotte? Sì. Ma c'è un virus da sconfiggere? Sì. E quindi lasciamo che gli ungheresi lo combattano come ritengono, gli italiani lo stanno combattendo come ritengono. Mi sembra la critica senza aver letto i testi. Ripeto, all'Ungheria, perché è l'Ungheria, leggevo su qualche giornale addirittura che c'era una critica all'Ungheria perché ci sarebbero troppi pochi morti. Quindi è una grave colpa evidentemente del popolo ungherese, del governo ungherese, avere ancora un numero limitato di morti. Lasciamo che gli ungheresi facciano gli ungheresi, noi italiani facciamo gli italiani. C'è gente che sta osannando il regime cinese, la dittatura cinese, il partito comunista cinese, che sì è una dittatura con pieni poteri ma non perché gli dà il popolo al Parlamento, ma perché se li pigliano loro. Quindi evitiamo di perdere tempo criticando Orban, a cui mi sono limitato a mandare un messaggio ieri facendogli gli auguri di buona salute a lui e al suo popolo e molto cortesemente mi ha risposto facendo auguri di buona salute a tutto il popolo italiano e questo è. Le ultime due sempre su Orban, sintetizzo. Saita della DN Kronos chiede se le opposizioni in Ungheria non possono più fare proposte al contrario dell'Italia. Orban adesso decide da solo, è meglio l'Italia secondo lei oppure no? E lo Papa di Repubblica se in qualche modo il modello di Orban potrebbe essere un suo modello per un eventuale Salvini Premier? Io sono educato e rispondo a domande secondo me inesistenti o malposte. Quindi in questo momento c'è il governo Conte, noi lavoriamo con il governo Conte, così come le opposizioni liberamente e democraticamente elette in Ungheria lavorano con il governo ungherese, non so da dove arrivino certe notizie. Certo se uno legge solo Repubblica o il fatto quotidiano e se il mondo per qualcuno si esaurisce sulle colonne di Repubblico del fatto quotidiano, diciamo che è una visione un pochino limitata del mondo. Poi per quello che riguarda un'eventuale ipotesi futura, non è all'ordine del giorno adesso, non mi interessa pensare. Io oggi voglio solo essere d'aiuto ai sindaci, ai medici, agli infermieri, ai poliziotti, ai commercianti, agli agricoltori che mi chiamano per avere una mano. E poi quando ci saranno le elezioni, su base democratica, con delle regole previste dalla Costituzione, lo ricordo all'amico di Repubblica, le regole di un governo non le detta Salvini ma le detta la Costituzione, e quindi i poteri di un Premier sono previsti dalla Costituzione, ricordo solo che finalmente settimana scorsa siamo andati in Parlamento, che la Costituzione prevede essere il luogo di deposito della democrazia e di esercizio della democrazia con il Presidente del Consiglio perché l'abbiamo chiesto noi, perché altrimenti saremmo rimasti alle conferenze stampa e alle dirette Facebook del Presidente del Consiglio. Però, ripeto, queste sono polemiche che per me valgono meno di nulla quando ci sono alcune migliaia di morti che cerchiamo di evitare e soprattutto alcuni milioni di lavoratori, di imprenditori che vorremmo aiutare a non perdere tutto, non vorremmo che si morisse di virus adesso e di fame o di disperazione e di disoccupazione fra qualche mese. Quindi io ringrazio tutte le associazioni che hanno aderito al tavolo permanente per le imprese che come Lega abbiamo messo in piedi perché c'è bisogno di ascoltare. Poi, se qualcuno è più interessato a quello che accade a Budapest rispetto a quello che accade all'odio a Siracusa, mi spiace per lui. Federica Valenti Dell'Aggi. In un'intervista il capogruppo Molinari ha chiesto che, finita la crisi, si dia vita ad un governo di unità nazionale, come più o meno era venuto fuori circa un mese fa in un incontro con il Presidente della Repubblica. Un governo di unità nazionale in cui partecipino tutti tranne i 5 Stelle. E questa è la posizione della Lega? Questa è la posizione di Riccardo a cui va un mio abbraccio come a tutta la comunità piemontese che sta vivendo giornate di estrema difficoltà adesso. Si stanno battendo come leoni. Anche in Piemonte, penso a Cuneo, è stato aperto in anticipo un ospedale, grazie agli sforzi locali. Ringrazio coloro che hanno allestito in tempi di record ed un record mondiale il nuovo ospedale in Fiera a Milano, a Bergamo, a Crema, a Cremona e quindi col contributo dei volontari, degli alpini, dell'associazione di volontariato. Che cosa accadrà a virus sconfitto lo valuteremo. Sicuramente occorrerà coinvolgere il meglio dell'Italia, perché quando devi ricostruire non basta un governo con qualcuno che peraltro non... ripeto io non vivo a pane sondaggi, anzi mi interessano poco di solito a figurarsi quanto mi interessano i sondaggi quando c'è quotidianamente la conta dei morti, però vedevo il sondaggio di DSVG che è una casa seria a differenza di altri ieri che dava, se non ricordo male, la Lega al 31%, Fratelli d'Italia 12% forse Italia al 6%, quindi se uno fa due conti il centrodestra è al 50% se non sopra il 50%. Noi non ci vogliamo autoinvitare a casa di nessuno, se Conte, Di Maio e Gualtieri e Provenzano e Boccia dicessero noi siamo il meglio, noi siamo autosufficienti, facciamo tutto noi, lasceremo alla storia gli imprenditori e i lavoratori e gli artigiani italiani valutare se il meglio è quello, seppure sia necessario fare professione di umiltà, di forza e di coraggio perché a volte coinvolgere qualcuno che è migliore di noi non è segno di debolezza ma è segno di intelligenza e di forza, io ritengo per... adesso lasciamo lavorare i medici e ascoltiamo i medici, quando i medici ci avranno dato una mano abbattendo il virus poi occorrerà il meglio dell'economia, il meglio del mondo del lavoro, il meglio del mondo delle professioni e a giudicare dagli interventi di queste settimane si può fare tanto, voglio dire quindi non chiediamo governi, non chiediamo poltrone, però ci sarà bisogno di tutta Italia non solo di un pezzo di Italia, perché faccio un esempio, mettere per le partite IVA o per i liberi professionisti un tetto di fatturato a 35.000 euro per avere i famosi 600 euro vuol dire che non hai tanta dimestichezza con la vita reale perché un geometra, un avvocato, un farmacista, un consulente del lavoro, un biologo, un ingegnere, un architetto che nel 2018 abbia fatturato meno di 35.000 euro o non è molto capace, o lavora in nero, o evade non ci sono altre possibilità e quindi è chiaro che per ricostruire un'economia di guerra occorrerà innanzitutto coraggio e Alberto ti ricordi quando noi parlammo ormai settimane fa io mi ricordo facciamo una conferenza stampa proprio qua alla Camera quando si poteva, se lo ricorderanno i colleghi giornalisti, avere anche i giornalisti e noi lanciamo un piano economico da 50 miliardi di euro e ci dedero dei matti, Salvini ti era i numeri all'otto mi ricordo alcune reazioni del PD, dei 5 Stelle, Sparacazzate, Cazzaro, Allarmista adesso 50 miliardi sono forse una minima parte adesso se volessimo essere onesti dovremmo parlare di 200 miliardi se oggi Confindustria stima un'ipotesi di meno 10% del PIL se il PIL sono 1.800 miliardi meno 10% vuol dire meno 180 miliardi andando molto a spanne quindi è chiaro che con meno di 200 miliardi si fa poco e quindi è chiaro che per gestire questa cifra per gestire questi cantieri servirà chi vuole aprirli i cantieri perché se dobbiamo far gestire i cantieri da chi non vuole aprire i cantieri è complicato però ripeto sono tutti discorsi che verranno dopo aver abbattuto la bestia il virus, il mostro ma no, noi non protestiamo noi proponiamo e ripeto quelle che domani porteremo al Presidente Conte non saranno proposte della Lega o del centrodestra saranno proposte che arrivano dall'Italia da Confartigianato da CNA da Confcommercio da Confesercenti da Confagricoltura da Coldiretti da Confindustria da Confimi dal mondo del precariato e delle cooperative ci sono circa 130 mila posti di lavoro di dipendenti delle cooperative a rischio cooperative sane cooperative di servizi cooperative sociali cooperative di assistenza c'è tutto il mondo del precariato e del lavoro stagionale pensiamo ai balneari pensiamo agli ambulanti pensiamo agli agenti di commercio quindi noi vogliamo essere ottimisti e non pensiamo a forme di protesta speriamo che il Governo ci ascolti non in tutto ovviamente non pretendiamo che arriviamo dal Governo con 30 proposte e il Governo ci dica accetto 30 proposte però neanche una più una pacca sulla spalla quindi se c'è bisogno di tutti noi ci siamo e lo stiamo dimostrando e penso che gli italiani stiano apprezzando contiamo che ci sia altrettanta voglia di dialogare dall'altra parte perché proprio di di protestare in questo momento non ho voglia ringrazio e abbraccio i sindaci che oggi hanno fatto il minuto di silenzio in memoria delle vittime che hanno messo la bandiera a mezzasta in memoria delle vittime qualcuno anche ha mainato la bandiera dell'Europa con rispetto con educazione con buone maniere penso al sindaco di Grosseto penso al sindaco di Castiglion Fiorentino e abbraccio e ringrazio tutti i sindaci che ci stanno mettendo l'anima e soprattutto abbraccio e ringrazio voi e se qualcuno avrà voglia e tempo ci aggiorniamo sulla mia pagina per questa sera intorno alle 10 10 e mezza per fare il punto della situazione e raccogliere ulteriormente vostre proposte consigli critiche o suggerimenti da portare sul tavolo del governo domani bocca al lupo per questo Grazie.